e parte Karen, sta buona mamma mia Karen sta buona l'attacco ferozissimo della nostra vabbè è stata qui là ma che ma che Karen non vuoi sbranare? ti abbiamo fermato a stento scusa vabbè in questo momento abbiamo evitato la terza guerra mondiale era pronta per un attacco atomico questa qui ma c'è il freddo che fa oggi tutto rigorosamente in diretta diretta differita ok no diretta diretta vabbè fai ok